Il Giro della Toscana non si ferma, nonostante problemi economici che attanagliano tutto il settore, con tante gare costrette alla cancellazione. La manifestazione organizzata dal patron Brunello Fanini e dalla Michela Fanini prosegue nel nome di Michela Fanini, la campionessa lucchese prematuramente scomparsa. La formula è la solita, tre giorni di spettacolo dall'8 al 10 settembre, tre giorni di sfide per stabilire chi sarà la nuova Granduchessa di Toscana, che riuscirà a scrivere il proprio nome in un albo d'oro a dir poco mondiale, magari scalzando la campionessa sudafricana Asley Moulman-Pasio, che supportata da una squadra di altissimo livello, la Servilo Bigla, cercherà di bissare il trionfo dello scorso anno. Si tratterà di un weekend lungo e ricco di emozioni, iniziative di grande ciclismo grazie alla presenza di ben 22 squadre, di queste 12 straniere e 10 italiane e di 160 atlete, 257 chilometri da percorrere per un Toscana che inizierà venerdì 8 settembre con il cronoprologo di Campi Bisenzio, un programma a metà pomeriggio, proseguirà sabato 9 con l'impegnativa Segromigno Piano-Porcari-Segromigno Piano e si concluderà domenica 10 con l'insidiosa Lucca Capanore. Oltre ai premi istituzionali in questa edizione ce ne saranno alcuni veramente speciali, come quelli fatti interamente a mano dai ragazzi del gruppo Arti e Mestieri della Fondazione Mike, una onlus che svolge assistenza socio-sanitaria a servizio della disabilità. L'intero Giro della Toscana è dedicato a Michela Fanini. Tutti gli anni si dice che capitano dei momenti di crisi, basta, non si fa più, c'è pochi sponsor, i comuni non pagano, pagano poco, ci si scoraggia. Poi invece si arriva piano piano, si mette in moto il meccanismo e si riparte. Si arriverà fino a 25, eravamo a 15, arriviamo a 20, arriviamo a 20, superato 20, si arrivava a 25. Poi speriamo che venga su qualche giovano e continui fino a 50. Tre giorni di grande festa sia in strada con le corse, sia fuori dalla strada con le varie iniziative. Sì, rimangono ancora le solite tre tappe, Campo Visenza, Sigromigno che si attraversa Porcare e Capannori, poi Lucca, tutte sulle nostre colline, molto dura, molto impegnativa, si è aggiunta una salita in più, quindi quella che vince sicuramente sarà la vincitrice oppure sarà sul podio o nei primi ai campionati del mondo come è sempre esistito. Il tutto sempre nel nome di Michela? Quando si parla di Michela anche a noi ci viene la voglia, la carica e riesce tutto bene. Tutto nel nome di Michela anche quest'anno, si ricorda anche altre persone, però il ricordo è fisso di Michela Fanini perché con lei si risolve tutti i problemi. Anche quest'anno, boom, come fosse un miracolo, abbiamo deciso di fare anche nel 2017. Come tutti gli anni vi aspetto tutti e numerosi come sempre perché sarà un grande film, un grande spettacolo, tre giornate di festa, tre giornate di sport favoloso, internazionale e tanta allegria e simpatia e manifestazioni collaterali. Ciao, vi aspetto tutti. È un film! Maiaaa! Semi...